Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, l'orazione della Tredicina di Sant'Antonio quest'oggi così ci fa pregare O caro Santo che intercedi affinché tanti malati ritrovino la salute, aiutami a guarire dalla colpa e dalle cattive inclinazioni Dobbiamo dunque guarire dalla colpa e noi guariamo dalla colpa per mezzo di un salutare pentimento Il pentimento è la grazia più importante, bisogna pregare per ottenere questo dono Non siamo noi a produrlo nel nostro cuore, ma è un dono che dobbiamo chiedere umilmente nella preghiera Se non si costruisce su questo solido basamento della contrizione, il nostro edificio spirituale crollerà miseramente Questa contrizione continua è stata ricollegata alla beatitudine Beati quelli che piangono perché saranno consolati Non si tratta però di una tristezza, di un pianto secondo il mondo che porta la morte Ma di una tristezza secondo Dio che porta la vera gioia San Paolo Apostolo così scriveva ai Corinzi La tristezza che è secondo Dio produce un pentimento che non si rimpiange perché conduce a salvezza Mentre la tristezza del mondo procura la morte La tristezza secondo il mondo nasce quando l'uomo si accorge che il peccato lo lascia più vuoto di prima E tuttavia non riesce a farne a meno Al contrario la tristezza secondo Dio nasce dal pentimento dei nostri peccati E in questo pianto già si sente la consolazione di Dio Per questo motivo Sant'Efrem come ho ricordato in altre occasioni Affermava che un volto lavato di lacrime è di una bellezza in peritura Le lacrime di pentimento lavano il nostro volto e gli ridonano l'originaria bellezza Quella ricevuta in dono nel giorno del nostro battesimo Chiediamo alla Madonna e a Sant'Antonio che ci mantengano sempre in quest'umiltà Che ci donino sempre i salutari rimorsi di coscienza E che rendano il nostro volto simile al loro Riflesso della purezza di Dio Sant'Antonio scriveva Come deve essere la contrizione per il peccato Ascolta il salmista Uno spirito contrito e sacrificio a Dio Un cuore affranto e umiliato Dio tu non disprezzi In queste parole sono indicate la compunzione di spirito per i peccati La riconciliazione del peccatore La contrizione universale per tutti i peccati E l'umiliazione continua del peccatore pentito Lo spirito del penitente Quando è lacerato e coperto di ferite È un olocausto gradito a Dio Egli si riconcilia con il peccatore E il peccatore con lui La predicazione di Sant'Antonio Oltre che alla glorificazione di Dio E al trionfo della Chiesa Mirava alla conversione dei peccatori Perciò dopo aver dimostrato La bruttezza del peccato E il male che produce nell'anima Esortava gli uditori A fare una sincera e buona confessione Un giorno andò da lui un grande peccatore Deciso a cambiare vita E a riparare tutti i mali commessi Si inginocchiò ai suoi piedi Ed era tale la sua commozione Da non riuscire ad aprir bocca Mentre lacrime di pentimento Gli bagnavano il volto Allora il santo frate Lo consigliò di ritirarsi E di scrivere su di un foglio I suoi peccati L'uomo obbedì E ritornò con una lunga lista Sant'Antonio li lesse a voce alta Poi riconsegnò il foglio al penitente Che se ne stava in ginocchio Quale fu la meraviglia del peccatore pentito Quando vide il foglio perfettamente pulito I peccati erano spariti dall'anima del peccatore E così pure dalla carta O caro santo Che intercedi affinché tanti malati Ritrovino la salute Aiutami a guarire dalla colpa E dalle cattive inclinazioni Sant'Antonio prega per noi Ritrovino la salute